Presidente, una doverosa riscoperta di questo nostro illustre concittadino. Sì, direi concittadino grande italiano e grande europeo, perché la dimensione dell'opera di Cozzani si riverbera attraverso l'eroica, la sua casa editrice, su tutta la letteratura europea. Domani a Milano compiremo un'altra tappa di questa riscoperta con un grande convegno articolato in due sezioni, una alla mattina all'Accademia di Brera e al pomeriggio all'Università Cattolica. La prima parte sarà dedicata alle arti figurative che sono state ospitate nella trentennale edizione dell'eroica e al pomeriggio invece sarà dedicato all'attività letteraria propria di Ettore Cozzani, poeta, scrittore e di grande editore, cosa che viene spesso dimenticata perché attraverso la sua casa editrice lui ha pubblicato per fare un nome La cena delle beffe di San Benelli, Danunzio e tanti altri giovani o meno giovani autori. Quindi è una giornata che fa seguito a una giornata svolta un mese fa qui all'Accademia Beghi con la collaborazione dei servizi culturali del Comune, della dottoressa Ratti in particolare e che aveva la stessa articolazione, arti figurative e aspetto letterario. Il prossimo passo e i prossimi passi cercheremo di dedicarle appunto alla dimensione europea dell'opera di Cozzani e al suo rapporto con i giovani. C'è ancora molto da scoprire, insomma, sotto l'aspetto anche culturale, no? Questo immenso personaggio che ha lasciato tutto ancora da scoprire ma con una certa nobiltà. Sì, perché il suo isolamento relativo, perché se spogliamo le pagine dell'Euroica lui è collegato con tutto il mondo culturale italiano degli anni 20, 30 e 40, però c'è da scoprire tutta l'attività editoriale attraverso la quale lui spazia in ambiti apparentemente, diciamo, contradditori. Lui, uomo del mare, delle cinque terre, che dedica una collana editoriale alla montagna. Ma alla montagna, diciamo, vera, tra virgolette, insomma, dalle Alpi alla grande montagna svizzera, austriaca, eccetera. Quindi è tutto uno scrittore da scoprire. Grazie a tutti.